Leco, nove arresti in una faida tra bande di trapper. Le violenze erano ispirate ai tumulti delle periferie francesi, scrive il giudice. Alessio Zucchini. Dov'è? Dov'è il gangster che sei? Dov'è? La guerra dei trapper milanesi corre sui social, ma i pugni, i coltelli e le pistole non sono virtuali. Dov'è la tossicura? Dov'è Baby Samir? Dov'è Baby Samir? Gli insulti e le botte, tutto filmato e postato, tutto in diretta. Da una parte la gang di Simba Larou, dall'altra quella di Baby Touche. E' lui il ragazzo fatto prigioniero il primo marzo, accerchiato da una ventina di giovani, picchiato e poi caricato a forza su un'auto, tenuto ostaggio per due ore. Oggi gli arresti. Nove in totale, tra questi anche Simba Larou, a casa sua i carabinieri, hanno trovato una pistola con quattro proiettili. Una spettacolarizzazione delle azioni criminali, scrive il giudice nell'ordinanza, che prima vengono esaltate nei brani musicali e poi, quando avvengono, sono riprese come film con i cellulari. Lo scopo è certamente quello di stimolare processi di emulazione, di imitazione, quindi di glorificazione, che poi portano anche a rafforzare il potere di questi gruppi nell'ambito del mondo della trap. Una faida iniziata mesi fa, un'escalation che ha portato all'accoltellamento di Simba Larou. Io faccio la musica, voglio fare la musica, tutto il resto lasciatelo lontano da me. Immaginario gangster, lo sguardo ai rapper americani e alle ballie francesi, seconde generazioni di origini nordafricane, ma spesso nati e cresciuti in Lombardia. Sui loro profili social, migliaia di follower, discussioni e insulti, armi e violenza, ma soprattutto un'infinità di like.